Leila Liginari, di ADF. Ora, lo so che è maschilismo dire consulente filosofico, però se dico consulente filosofica, poi mi fraintendo, allora è diventata consulente filosofico. Allora, tieni con la cappella. Così? Grazie. No, mi piacciono proprio la pancetta. Se chi ci vogliono 5 attestati per coprire le nostre pance? Caffè. Eccola qua. Oh no, ci vuole un meraviglio. No, va, sì, è altissima, meravissima, buonissima. Capace, allora. No, vai a vedere tutta la mia testa. Il cosulenzone, tieni, tieni tutti. E poi abbiamo lavoro in conto e di ciò che è nato. Grazie. Lui che farà in me è il Veneci. Il prossimo maestro. Il prossimo maestro l'Indietro. Il Veneci. Il testo, dite le mostre. Come ve lo faccio. Ecco, bravi, così, eh? Non mette il bravi così. Sì, bravi, l'altro così. Eh, dico, guarda che così diventa tutto il tivolo, eh? Quindi vi riprendo. Dite qualcosa per la stampa. E' da l'era, 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 l'era. Ustiti. Guarda che va su Facebook. E' così, eh? Ahahahah, mi ricordo che si fotografano qualche minura. Grazie a tutti.